Città Slow è un network internazionale diffuso in oltre 30 paesi in tutto il mondo, quasi 300 città, di cui 86 in Italia. Dalla Finlandia alla Sudafrica, dal Nord Europa alla Cina, dal Giappone all'America. È un network dove le amministrazioni comunali e i sindaci portano le loro esperienze ed è un laboratorio costante di innovazioni rivolte al turismo, rivolte alla promozione del territorio, rivolte alla resilienza e alle città del buon vivere. Belluno è il primo capoluogo italiano che entra a far parte di questo network internazionale ed è un onore per me essere qui oggi a certificare ufficialmente l'entrata del comune di Belluno e a certificare l'ottimo lavoro che il sindaco Massaro e l'amministrazione comunale sta facendo per il rispetto di oltre 70 punti che vanno a qualificare una città Slow. Belluno è entrato con oltre il 65% ed è uno dei risultati che si possono ottenere.